In 70 comuni del Molise il peso degli ultraottantenni sul totale della popolazione è preponderante e 82 centri, sui complessivi 136, sono classificati a forte spopolamento. Il primo dato, 51,5% il più alto d'Italia, quello relativo alla desertificazione demografica, invece il secondo, solo la Basilicata, sta peggio. Il report del Centro di ricerca per le aree interne e gli appennini dell'Unimol, realizzato per il Sole 24 Ore, ancora una volta sembra non concedere chance alla ventesima regione, ma le aree interne sono più diffuse di quanto si pensi, coprono il 58% del territorio italiano. E non sono solo quelle montane, si definiscono così le zone in cui è più difficile, se non a volte impossibile, accedere ai servizi essenziali, sanità, istruzione, mobilità. Leggendo i dati del report suona proprio un campanello d'allarme per le prestazioni essenziali, secondo i ricercatori Carlo Lallo, Emilio Cameli e Federico Benassi, la questione è nel contempo sociale, di sviluppo economico, di rappresentanza politica e tenuta del territorio. Il tema dunque è quello dei servizi, la cui assenza accentua il processo di spopolamento o comunque di impoverimento vista la migrazione dei giovani e l'innalzamento progressivo dell'età media. Non c'è una soluzione unica, per tutti gli esperti però serve una presenza delle istituzioni, con soluzioni che possano attingere anche all'esperienza recente su tutto il Covid e l'operatività a distanza, sia lavorativa sia didattica.